ciao tutto bene, tutto a posto poi le foto le ho portate sto facendo un filmato sto facendo un filmato da mettere su allora hai cambiato moto, hai preso un vecchio amore ma non è solo foto, è ripresa wow, allora si può anche parlare c'è un mucchio di piga figlio come mai sei da solo tu? no, no, non sono da solo purtroppo no cioè purtroppo poi io qui faccio taglie quello che dico eccolo arriva, arriva arriva jader da solo e me l'ha detto ah e no, è infatti è quello che ti ho chiesto che ti ho chiesto è lui che ti ha il mostro se quattro giorni buongiorno buongiorno fai lì leggere tu questo è già preso questo è biondo questo è un regalo è un film è un regalo in campo serio no, c'è anche lui no, c'è come ti chiami tu? ho chiuso gli occhi Rosi Rosi allora qui chiudiamo qui chiudiamo io e la tua frase storica chiudiamo allegria è che chiudiamo